La tecnologia digitale sta innescando mutamenti profondi del tessuto democratico e della stessa struttura sociale, ridisegnando il raggio di estensione del potere e i confini della libertà. Ma dobbiamo chiederci quanta sorveglianza possa tollerare la democrazia per restare ancora tale. Il diritto alla protezione dati rappresenta in questo senso una guida essenziale per coniugare libertà e innovazione, democrazia e tecnica. E quanto ha evidenziato a Pescara partecipando al seminario dal titolo Piattaforme digitali, libertà fondamentali e rischi della democrazia organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali e dalle Cattedre di Diritto Costituzionale e di Istituzioni di Diritto Pubblico dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, il presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro. Al simposio hanno partecipato anche il procuratore della Repubblica di Vasto Giampiero di Florio, i docenti dell'Ateneo Giampiero di Plinio, professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Francesco Bilancia, professore ordinario di Diritto Costituzionale ed Andrea Monti, professore a contratto Diritto dell'Ordine Pubblico, che ascoltiamo al microfono di Massimo Profeta. Siamo stati molto contenti di ospitare il presidente dell'autorità garante, che per la prima volta dalla sua istituzione è venuto in Abruzzo e all'Università di Chieti Pescara. Dopodiché sui contenuti, nonostante su questi argomenti ci sia una miriade di convegni un po' dappertutto, la delicatezza dei temi e l'equilibrio con il quale sono stati trattati ha consentito ai partecipanti di farsi un'idea che non sia alterata da dialettiche partigiane. Che cosa è emerso di importante da questo seguito? Direi che il tema fondamentale è che dal punto di vista della tutela dell'esercizio dei diritti politici, il fatto che la tecnologia consenta una forma di partecipazione diretta alla vita dello Stato, non vuol dire che necessariamente sia una cosa da fare senza adeguate garanzie e adeguate protezioni, sia per il diritto individuale dei soggetti al fatto che la loro volontà venga effettivamente rispettata, ma sia anche e soprattutto rispetto al fatto che le prerogative del Parlamento vengano protette da invasioni da cavalli di Troia che sottraggono al Parlamento la potestà regolamentare.